Abbiamo scambiato Mastellari per Miani ma la somiglianza è veramente parecchia da lontano. Andiamo con Gorzinuovi, con Bertini che si fa perdonare l'errore di Quimiani che come abbiamo visto nel primo periodo si è fatto notare dalla lunga distanza e ora qui invece va in appoggio con una mano sola. Mayfield prova a buttarsi dentro, Zugno, poi si butta dentro Zugno, una mano per Zugno e va. Si è classificata seconda dietro alla Spagna. Intanto la conclusione da tre non va a buon fine, quella di Cividale. Brown prova a buttarsi dentro, bel movimento. Non sono previsti due tiri liberi in caso di farlo in attacco. Comunque in bonus Cividale, basta stare attenta, ora Mayfield strutta i blocchi di Brown, poi extra pass per Bertini che segna la trinta. Tre punti che non va, rimbalzone di Bertini. Che riesce a tenere la palla in campo ed è subito Zugno. Bravo qua Bertini. Zugno, palla per Brown. Bella azione di Gorzinuovi. Per il numero 20 maglia gialla-blu. Nel terzo periodo di Gorzinuovi era salita di colpi anche in difesa. Ricordiamo le palle recuperate invece qui troppo solo. Invece nel frattempo è Mayfield. Si fa tutto il campo ma sbaglia l'ultima, l'appoggio. Da cosa più facile per oggi, pensa, bravo! Donzelli. Tiro da tre di Donzelli. E stavolta va a segno. La parabola, non trova il canestro. Dovrà essere veloce, è ora Orzinuovi. Dall'altra parte con Mayfield subito da tre. Mayfield si alza da tre. Trova il canestro. Prende la palla Mayfield. Che si fa tutto il campo. Va a schiazzare, va a inchiodare.